Drangheta è stato arrestato a Lisbona. Il boss latitante Francesco Pelle è condannato all'ergastolo per la faida di San Luca. Era ricoverato in una clinica per Covid, localizzato anche grazie al progetto ICANN dell'Interpol. Vittorio Romano. Per i medici dell'ospedale di Lisbona era un paziente come gli altri. Francesco Pelle, 44 anni, noto come Ciccio Pakistan, era il secondo latitante più pericoloso dell'Andrangheta. Fu suo l'ordine di uccidere Giovanni Nirta nel 2006, un agguato fallito nel quale perse la vita la moglie del boss di San Luca, la vendetta. Nell'agosto del 2007 aprì gli occhi all'Europa intera. A Duisburg in Germania furono ritrovati i corpi di sei persone davanti ad un ristorante italiano. Francesco Pelle, siamo arrivati attraverso una notizia acquisita dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Quindi si è attivata subito la cooperazione internazionale. Il nome di Pelle era inserito nelle banche dati del progetto ICANN, la cooperazione tra forze di polizia di 11 paesi, dagli Stati Uniti alla Colombia fino all'Australia e l'Interpol, per condividere informazioni e non dare tra i gualati tanti. Oggi è trattato a Malpensa un altro fuggitivo, Mark Biart, trafficante internazionale affiliato all'Andrangheta di Rosarno, scovato a Santo Domingo grazie a dei video di Cucina Italiana postati sui social dalla compagna. È sottovalutata l'Andrangheta nel mondo? L'Andrangheta non è proprio conosciuta nel mondo. Il vero tema è rendere consapevoli i paesi e le polizie di tutto il mondo di come l'Andrangheta costituisca una minaccia. Proprio in questi giorni il vertice operativo di Interpol ha in missione in Calabria per incontrare i capi delle procure delle forze dell'ordine in prima linea, nella lotta alle mafie. Sappiamo che l'Andrangheta ha tentacoli in tutto il mondo, spiega Kavana, numero 2 dell'Interpol, ogni volta che ne tagliamo uno ricresce. È un impegno a lungo termine. Questo è un impegno a lungo termine.